storia di perdenti cronici come l'Inter che con la corruzione e l'astuzia hanno compiuto la più grande truffa del carcio montiano. Prima di proseguire col video ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere la notifica della pubblicazione di nuovi video, mettete like al video ma soprattutto condividete, condividete, condividete! E' acclarato ragazzi che l'Inter utilizzava Telecom grazie a Tronchetti Provera, presidente della stessa e dirigente interista per pedinare non solo i suoi giocatori, Vieri ad esempio e altri, violando la loro pravisi ma anche arbitri come De Santis e dirigenti avversari come Moggi e Giraudo. Nel 2007 con le stesse notizie di reato la FIGI ci archiviò invece la posizione dell'Inter perché disse di non avere prove. Nel 2012 il tribunale di Milano condannò l'Inter obbligandole in primo grado a risercire il suo ex giocatore Cristian Vieri di un milione di euro in solido con Telecom per spionaggio illegale. Ma le sanzioni sportive ragazzi sempre salvi? Quei pedinamenti e quello spionaggio industriale ai danni dei dirigenti di altre squadre in altri sport ad esempio ha indotto altre federazioni coinvolte multe di svariati centinaia di milioni. Nel 2007 alla McLaren ad esempio venne infatti combinata una multa da 100 milioni di dollari basterebbe no a far fallire l'Inter oltre a una perdita di tutti i punti del campionato precedente e questo perché alcuni ingegneri McLaren avrebbero sottratto file e mail segretate ai colleghi della Ferrari. L'Inter invece da quando risultano i processi intercettava pedinava direttamente il dirigente della Juventus soffiando notizie relative a strategie commerciali e di mercato. Sappiamo cosa è successo invece nell'ambito del quadro di Calciopoli. Le telefonate più scottanti, le intercettazioni più scondalose, più scomode come ad esempio quando Moggi poi si lamentava questi insegnatori operati da quella branca occulta della security telecom che faceva capo a Tavaroli e operava per conte dell'Inter, in qualche modo arrivano al nucleo dei carabinieri guidati dal colonnello Auricchio. Un PC di Tavaroli fu invenuto addirittura negli uffici dello staff di Auricchio. Così Auricchio e Sui cominciarono a loro volta a pedinare Moggi, Giraudo, designatori degli arbitri e altri. Primo alt. Perché? Perché Auricchio non denunciò innanzitutto le operazioni legali di telecom. Proseguiamo. Auricchio e Sui intercettavano ma omettono le intercettazioni tra Facchetti, Moratti, Galliani e gli arbitri che verranno fuori molto tempo dopo. Particolare e importante non ci sono chiamate tra Moggi e arbitri ma solo con i disegnatori che all'epoca ragazzi era legale. Al tempo stesso stracci di quelle intercettazioni arrivano casualmente alla stampa romana. Ci arrivano preceduti da due particolari. Il colonnello Auricchio è grande amico del dirigente della Roma, Baldini. Lo stesso Baldini, intercettato a sua volta al telefono con alcuni esponenti della FIGC, diceva in quei giorni «Vedrai che farò il ribaltone nel calcio italiano». A seguito di queste pubblicazioni illegali, frammentaria e parziali di intercettazioni iniziate in modo illegale, iniziò quindi nell'estate del 2006, il processo sportivo Calciopoli, dove finito con un'ammissione di colpa non indifferente sommario da parte dello sessabete, ex presidente della FIGC. Ma in quel processo non ci fu traccia del coinvolgimento dell'Inter. Come commissario straordinario della FIGC, chiamato a governare il caos e a fare piazza pulita, venne nominato Guido Rossi, ex consigliere d'amministrazione ed ex futuro presidente Telecom. La storia delle sentenze delle condanne sportive è cosa ampiamente nota. Rossi e altri massacrarono la Juve, inventandosi il reato di illecito strutturato e appellandosi non già alle prove, ma al sentimento popolare. La Juve non ricorre al TAR dopo i tempi minimi del processo sportivo per non rischiare radiazione e per supina accettazione. Poi, a spese dello Stato e delle autorità preposte, ma del cittadino Moggi, negli anni vengono acquisite e sbobbinate tutte o quasi le centinaia di migliaia di incertestazioni del gruppo dei garbinieri di Auricchio e saltano fuori le clamorose chiamate di facchetti ad arbitri e disegnatori, con interventi diretti dello stesso presidente dell'Inter. A quel punto si disse che le telefonate non avevano rilievi penali, ma avevano e hanno valore sportivo pesante e avrebbero portato, se uscite nello stesso periodo di quelle di Moggi, ad una pesante penalizzazione dell'Inter. Lo stesso PM Palazzi, sollecitato della Juve e non della FGC, a fare chiarezza, nel 2011 sente Moratti non convocandolo in procura FGC, ma incredibilmente andando a trovarlo a domicilio nel suo ufficio nerazzurro. Poi, con un'estrema lentezza, circa 18 mesi per sentire il solo Moratti ed analizzare una decina di intercettazioni, Palazzi arriva a una relazione in cui accusa l'Inter di aver evidentemente messo in atto comportamenti, atti ad alterare il torneo, attivando di fatto un illecito sportivo. A quel punto quindi l'Inter, per quei reati per i quali dovrebbe comunque difendersi in un processo sportivo, meriterebbe la retrocessione, oltre evidentemente alla revoca dello scudetto tolto da Juventus e magari la revoca anche di altri scudetti. Ma come tutti già sappiamo, i reati sono prescritti per pochi mesi. Palazzi avrebbe potuto fare in tempo, lo sapeva, eppure lascia trascorrere i termini, e non solo. Invece di deferire l'Inter e Moratti, i quali a quel punto avrebbero potuto appellarsi alla prescrizione, o rinunciando, andando a processo per chiedere l'assoluzione, anche in nome del compianto Facchetti, Palazzi indichi reati come prescritti già nella sua relazione. E Moratti tace e acconsente, dichiarando però ai giornali le parole di Palazzi sono infondate, pericolose e stupide. Non si ricordano interventi di Pretucci e della FIGC in difesa dei procuratori. La giustizia ha condannato l'Inter per vieri. Una piccola, piccolissima notizia, una faccenda quasi insignificante, eppure il destino della Juve dei 91 punti, degli otto finalisti di Berlino, più Ibra, Nedved, l'epopea dell'Inter del triplete e del Milan vincitore della Champions. In definitiva, la storia recente del calcio italiano di quegli anni germoglia da lì, da quelle faccende squallide, storia di perdenti cronici come l'Inter che con la corruzione e l'astuzia hanno compiuto la più grande truffa del calcio mondiale. Poi però si fanno polemiche interminabili sul giallo al Pjanic e sul presunto rigore sullo nato. Vergogna.